and now get ready three two one ladies and gentlemen please welcome this is deep teachers show playing the best deep and soulful house music grooves from all over the world eccole puntuali le vibrazioni del deep teachers show del sabato notte qui su radio carina e in tv sul 697 del digitale terrestre benvenuti per tre ore il buon sound house groove suonato per voi da toni m lorenzo carbone e davide padruosi vi raccomando alzate sul volume non abbandonateci e seguiteci anche in live durante la settimana nei locali della città giovedì 18 saremo al vinile music bistro sabato 20 al river drink bar con i suoni di davide padruosi che è pronto ad aprire questo appuntamento lesson number one in the mix dj davide padruosi in grado sano in grado san in grado san ma in grado燃 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti